Come cazzo si fa? Al contrario Una tonnellata e mezzo dentro la canoa, più un bambino piccolo da neanche un anno Ci sono cinque persone, guarda Si ma una vale per due, ma non è quello il problema Il problema è che quella al centro C'è un bambino piccolo in mano E non vanno da nessuna parte perché uno rimane al contrario dell'altro Il canoa è ovviamente sollevata dalla parte gialla perché dietro il rosso è ormai sparita Vabbè